Comincia il fermento per il rinnovo dell'amministrazione comunale ammistretta dopo l'annuncio della candidatura a primo cittadino del dottore Carmelo Nucera circola il nome di Letizia Passarello, amastratina di nascita, nota giornalista nonché assessore sia al comune di Floresta recentemente anche nel comune di Santo Stefano di Camastra durante l'amministrazione Famularo. Letizia, attualmente segretaria del SAGI, il sindacato dei giornalisti autonomi, laureata in scienze politiche ed indirizzo internazionale, ha un master in direzione aziendale di imprese turistiche ed uno in giornalismo parlamentare. Appassionata di viaggi, di antropologie e di motori, da sempre collabora con organizzazioni di volontariato italiane ed internazionali. Nel gennaio del 2017 riceve la laurea ad honorem in filosofia delle religioni del mondo dall'International Philosophical Institute of India, diretto dal professore Nirajan Bhatt. Cronista politica con più di 25 anni di esperienza e stata portavoce di numerosi parlamentari, direttore responsabile del futurista peloritano, direttore editoriale del periodico Nuova Italia, responsabile dell'ufficio stampa dell'Istituto Autonomo Case Popolare di Messina e capo ufficio stampa vicario di Futuro e Libertà per l'Italia. Da un paio d'anni si occupa anche di comunicazione d'impresa, attualmente delegata per la Sicilia di Cultura Ambiente e Centro per la Pace. Letizia Passarello sarà sostenuta in questa campagna elettorale dal movimento Gol, acronimo di Giustizia, Onore e Libertà. Noi l'abbiamo raggiunta telefonicamente, le abbiamo chiesto cosa l'abbia spinta ad accettare la candidatura a sindaco di Mistretta. Quello che mi spinge ad accettare questa sfida, dichiara Letizia Passarello, prima di tutto sono le mie radici, io sono mistrettese e mi lega alla città un affetto profondissimo. Mistretta è culla di cultura, di bellezze architettoniche e artistiche, penso veramente che si possa rilanciare dal punto di vista turistico. Mistretta secondo me potrebbe vivere solo di cultura e turismo, ma quello che più ritengo sia indispensabile in questo preciso momento è cercare di ricostruire una unione di intenti e fare aggregazione. Tutte le classi sociali devono dialogare tra loro e con gli amministratori che ci saranno. Bisogna ritrovare il modo per fare emozionare il cittadino. I cittadini sono parte integrante della politica, sono i proprietari assoluti della casa comunale, dice la Passarello. Noi siamo soltanto i loro rappresentanti e dobbiamo assolutamente portare avanti quello di cui il tessuto sociale necessita e questo ritengo lo si possa fare soltanto ascoltando con attenzione quello che i cittadini ci chiedono. Le idee sono tante, conclude Letizia Passarello, e stiamo lavorando a questo. Faremo una lista formata da rappresentanti, la società civile e produttiva di Mistretta, oltre che da molti esponenti delle forze dell'ordine. Allora non ci resta che attendere la decisione del governatore Musumeci sulla data delle elezioni. Non si sa ancora se la Sicilia si uniformerà all'idea del governo nazionale di svolgere una election day nel prossimo autunno o lasciare che le urne si aprano in questa primavera.